E' uscito il primo party bag di FC25 Aggiornamento ROAD Cioè verso la fase di eliminazione Diciamo nell'italiano E rush totale Costa troppo poco raga Quindi fatemi sapere nei commenti cosa avete trovato Io ne aprirò più di 30 E vediamo il drop Vediamo il drop Secondo me raga costa troppo poco per droppare i top Che sta troppa roba buona E lascia like per un prossimo video Mi raccomando raga raga Raggiungiamo 150 like Non ci vuole niente Condividete il video che poi Diorgo strega Cioè Diorgo strega c'è qua mazza Che arriva a casa a Minab Se non mettete like Però prima Prima raga Apriamoci il pacchetto per te Cioè è per me raga Più per me di così Quindi facciamo vedere il pad Apriamo con la sinistra Let's go Ti servono crediti o giocatori FIFA coin.com E' il sito più veloce Affidabile e sicuro Per tutte le piattaforme Xbox Playstation e PC E con la promo di Halloween Avrete anche crediti gratuiti Accetta tutti i tipi di pagamenti Con il codice Diorgo Avrete il 5% di sconto Link in descrizione Mi raccomando Vabbè niente 3 blaser 86 più garantiti Questo è Gundogan Hai capelli di Gundogan Ma perché devo trovare Gundogan Che ci faccio Gundogan Ma perché devo trovare Gundogan Io Vabbè doppio walkout Vabbè raga Va bene Faccio da gabbia I pacchetti Vabbè pure 80 Non valgono niente Cioè qualcosa di navale In realtà Qualcosina vale Vabbè Niente raga Ok ora andiamoci a fare Il party bag Però apriremo prima gli altri Poi il mio Apriamo i 383 Ok subito Togliamoceli Togliamoceli Io ancora non l'ho fatto Lo farò anche sul mio account 383 Vabbè Chiaro Perfetto Vediamo Vediamo Inglese E stones Potrebbe essere stones Sono 85 E stones Sembra stones Si e stones Vabbè 85 Dai Buono Fra Non costa niente Costa 82 83 Tu chi vorresti trovare Proprio il tuo idolo Cosa vorresti trovare qua Una cosa fattibile Una cosa fattibile Eh Un drop Minchia Lo apro con il naso Perché non trovo la mazza Va bene Va bene Vado Chiudi gli occhi Chiudi gli occhi Occhi chiusi Il primo in assoluto Vediamo il drop Cioè in realtà è pure buona come carta Cioè è fattibile Però raga Manco walk out Apri gli occhi A quanto sta sta qua Antonia Silva Ma Vabbè Non costa niente Non costa niente Non costa niente Non costa niente Allora Excuse Direttamente da fondo Fortnite Direttamente da Fortnite console Non ce la faccia ad aspettare Fra Chi puoi trovare Excuse Ha cambiato pure voce Chi puoi trovare Io ti ho detto Ronaldo Sincero 380 Lui non si accontenta Lui va a dire Ronaldo Vuole il siù Vabbè 380 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 Che squadra tifi Io trovo le icon È a Juve Juve Ok Raga Lo apro con la mazza De schuese Con la mazza Chiudi gli occhi Excuse Chiudi gli occhi Mazza Mazza Ha glitchato Au Ma sai che ti dico Che Lo volevo io Apri gli occhi Lo volevo io Un po' glitchato Ma lo volevo io Per niente Fra Se il base è forte Quanto sta Vabbè si è abbassato un po' Ma 100 È una win Fra Non costa niente È una win Non costa niente Ok Non male Non male Non male Il migliore per adesso Secondo Gigi Vedi il Diorgo Che lui ha inventato il Diorgo Capite Cioè dovrei dargli i diritti Pagargli i diritti Hai dato tutto Per farti il party back Che non costa nulla Vai Mi accontento Sì lo so Mi accontento di tutto Di tutto Qualsiasi cosa Vai apri Basta che siamo andati Oh è rush Ma è welcome Oh è già una bomba giù Non penso proprio Che è Oh mio Dio Bro Che è Vabbè No Quanto sta Con colori un po' particolari 86 A quanto sta Quindi poi c'ha pure belle stazze È che sta là È che sta là L'esternatezza Secondo me sta a scarto Perfetto Vabbè Fra Ma non costa niente Dai tu sei sempre più fortunato Ma no Ma no Ma neanche a far così Bru Vamos Con i 383 Fino adesso Non è anche un walk out La 383 Continuiamo così Però 285 Potrebbe essere un altro 85 Non penso proprio 84 Bro Chi trovi Dimmi chi vuoi Io te lo trovo Sicuro Come che Che vuoi Eh vabbè Il bro Si accontenta di poco Te lo apro con il pisello A te Vai col pisello Ok La droga No fra È il mio tema Che è successo Che è successo Ok Abbiamo tagliato tutto Vabbè Quanto sta La bro 89 Cioè dai Non costa niente Ma quanto sta la bro Quanto sta Ah so io Che La droga Vabbè Dai 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 Cioè Te lo sei ripagato Cosa c'è fra Cioè Ci sta dai Ci sta Onesto Ho visto dei peggio Con naso Con naso Con naso Fammi togli i volumi De discord No fermate Non apri Vai col naso Con naso Questo è il rush Mi sento il rush Mi sento il rush Infatti ho detto Dai Ok Cc Sabitzer Quanto sta Vabbè Ma per quello che costa Comunque Secondo me sta 40k 50 30k È una bella garta Non so come metterlo in campo Perché guarda È una bella garta 3 skill Vedo un po' Un attimo Quanto sta 30k Secondo me 20k Vabbè Fracio Nel senso Per quello che costa Sì ma Ci sta Per quello che costa Ci sta Fra È pure una bella garta Comunque Quando ti pare Vai fra Quando ti pare 21 noni No che cosa hai Cioè 16 decimi Chi è Vai 3 2 1 Vai Vamos Rush Donna Coc E Marta Ok 20k Vabbè 20k È scesa così tanto È scesa così tanto Marta La usavo io Stava a 100k Vabbè 30k Vabbè Dai Per quello che costa Ci sta Chi è che Entresce con le cose Discord pazzi Fra Apri con il pisello Fidati 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 Sempre se ce l'hai Poi non lo so Ce l'hai Vai apri apri Ci sono Secondo me Champions Ah ragazzi Vengo dal futuro È mia diema È mia diema Non è vero È quella del Chelsea No non è del Chelsea È del Sì è del Chelsea Che fa favore Cdc Vabbè ragazzi È donna simulator Ragazzi solo donne si trovano Veramente solo donne 87 Ma per quello che costa Come ho detto prima Non ci si può lamentare Ok Alla fine Costa più di No costa quanto Marta Ci sta Vabbè Per quello che costa Proprio il party bag Non ci si può lamentare Non ci si può lamentare Cioè è costato così poco Che le win saranno Impossibili Impossibili Vado vado Per adesso ma neanche un walk out Ne ho aperti parecchi Massimo 85 Vabbè Walk out Vabbè Portieri Francesco Mignon Mignon Magari sotto Mendy Capito No Mi sa che non è doppio No non è doppio Non è doppio Non è doppio Non anche io l'ho capito Però me lo sentivo Fra da 383 Non è doppio Fra Chi puoi trovare Chi puoi trovare Serio Vabbè Io l'ho detto Costicchia Però un bell'unio All'Alvarez Vabbè Massimo Modesto Vado eh Vabbè Modesto Fra no Pensavo No perché Ok Ma non è walk out Sbaglio Oddio No 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 È coso Ehm Come si chiama Non mi viene Vabbè Capito Che in realtà è pure bella Come carta Però Che pensavi De Jong Già stavo a pensare De Jong Ma non era walk out Ma non era walk out Ma non era walk out Infatti A voi non è anche il colore Delle rush Che schifo Di a 7k Vabbè no Vabbè È normale Fra Cioè E questo Che devi fare Costa così poco Che i top Mi sa che ogni mille Ne uccirà uno Perché è impossibile Ragazzi C'è l'anteprima Dai Vediamo se troviamo qualcosa Dall'anteprima Vado eh Fra Te l'apro con la mazza A te Te l'apro con la mazza Vai Tu mi sento Rush totale Infatti Non sbaglio mai Oh walk out DC Inglese Ho capito anche chi è Vabbè ma fra Costa così poco Che alla fine ci sta Alla fine sono uscite Sempre loro Sempre donne comunque Williamson Sarà a prezzo Schiarto Sarà a 20k Vabbè 30k Vabbè Alla fine fra Oh io non me la menterei Per quello che costa Ci sta GG Cioè a parte un di Marco Tutte Cioè cose Ci sta Non me la menterei Fa che sia decente Per adesso Il drop è un po' L'avete visto Ti prego Ed è Rush Walk out DC Spagnolo Aspiliqueta Va bene Raga dai Excelsi Non vale niente Non spam Vabbè il drop È quello che è Raga Costa così poco Che Ci sta Dai ci sta Perché non farlo Ci sta Ci sta Potete andare peggio Potete andare meglio Il bro da xbox one Che non può condividere su discord Vediamo un po' Champions Non capisco se Si è walk out Ma non penso Pepe Per forza pepe Che cacchio c'è Non è pepe invece Cosa sto dicendo Vabbè Vabbè raga Tra l'altro Si può evolvere Se non sbaglio Potrei dire una cavolata Ma i vol Cioè raga Diventa una bestia Non so se dico cavolate Vabbè raga Poi lui starà Prezzo Io so il peggiore Incredibile 3.83 Per adesso Soltanto un walk out Abbiamo trovato Vediamo un po' È un walk out Vabbè Oblac Vabbè dai Non male Prima Mignon Vediamo sotto Che c'è magari Un bel Mendy Vabbè Oh ma guardate Che pacchetto GG Cifra Vamos Vamos Non capisco Se il walk out No On the back Non male Che l'ho buttato Nell'SBC Per fare l'Icon Prà È così il drop È questo Il drop È tanto Costa così Troppo Cioè Troppo poco L'hanno messo È normale Che Non vedremo Una win Da sti pacchi Magari Ogni mille Patti